Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15 dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla 1 si ricorda che stanotte a causa di lavori dalla mezzanotte fino alle 4 di domenica mattina sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisareggello in entrambe le direzioni. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione Mare. Notizie dalla città di Firenze si ricorda che in Via Mariti sono in corso lavori di riqualificazione della strada con restringimenti di carreggiata a tratte e chiusura del varco di collegamento tra le direttrici all'altezza del Civico 6. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.